ciao a tutti ragazzi non so se avete comprato qualche quotidiano oggi ma su tantissimi quotidiani ci sono pagine dedicati a erbalife 30 anni di collaborazione con lo sport e 30 anni di erbalife italia il messaggero proprio in terza pagina ma sono usciti questi questi diciamo banner sia sulla nazione sul resto del cardino secolo 12 19 sul giorno un sacco il tirreno tanti 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 quotidiani quindi e altrettanti riusciranno anche domani quindi anche domani ci sarà una rassegna sta stampa pubblicitaria su erbalife per i nostri primi 30 anni in italia quindi buona serata a tutti e buon sabato sera alla prossima